Per cui finirlo così, dall'altra parte della barricata, vivendo queste emozioni forti, perché poi alla fine mi ha fatto ripartire determinate sensazioni, emozioni del passato, ma mi ha alimentato anche quella che ero. Cioè è stata la chiusura di un cerchio, la chiusura di una storia bellissima. Quindi guardiamo avanti. Sei carica. Guardiamo avanti e io con questo metto il cappello e dico addio Isola, adesso ti seguo, ti amo per sempre, però la mia avventura finisce qui.